Sto provando la stessa emozione, la stessa gioia di quando a 15 anni ho avuto la fortuna di fare l'esordio nella mia prima gara del settore giovanile su un campo sterrato. Certo averne a quei tempi di campi così sarebbe stato molto bello perché questa scelta è una scelta che parte dal cuore ma è una scelta che soprattutto mette in moto tutta una serie di emozioni che sono quelle che mi ha dato l'AIA in tantissimi anni. Oggi si parla di innovazione, oggi cerchiamo qualcosa che faccia vivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto noi grazie all'esperienza, grazie all'impegno, grazie a quello che ci hanno dato i nostri formatori. Ecco vogliamo creare, ricreare, rigenerare, innovare, condividere. Ecco tanto vogliamo condividere con i giovani e con le giovani questa nuova AIA. L'AIA del cambiamento, l'AIA del nuovo, l'AIA dell'innovazione, l'AIA della condivisione, l'AIA della trasparenza e credo che il futuro sia fatto di persone che condividono, che mettono insieme, che vivono la gioia e l'entusiasmo di un momento unico e ripetibile come questo.